Inquinamento ambientale, falsità ideologica, smaltimento e traffico illecito di rifiuti. La Procura della Repubblica di Potenza dispone il sequestro preventivo di alcune vasche dell'ITREC di Rotondella, nonché dell'impianto Ex Magnox in area Enea. Ci occuperemo poi della strada provinciale 83, chiusa al traffico da più di due settimane, resi noti i risultati delle indagini geologiche dati sulla frana preoccupanti. Vertenza Troni, sono 30 i posti a rischio in Basilicata, presto in regione un tavolo con l'assessore Cifarelli. Le accuse sui social da parte di un funzionario della regione Basilicata, Francesca Barra e Claudio Santamaria, per la coppia arriva all'artiviazione. Calcio, il Picerno batte per 3 a 1 la Turris e realizza il record di punti in Serie D. E come ogni venerdì al termine del Tg, le previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi, l'esperto nei nostri studi. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo avete sentito dai titoli, la Procura di Potenza ha disposto il sequestro preventivo delle vasche di raccolta delle acque di falda e della condotta di scarico a mare dell'impianto ITREC di Rotondella. Stesso provvedimento anche per l'adiacente impianto EX Magnox per i reati di inquinamento ambientale, smaltimento e traffico illecito di rifiuti. Sentiamo i dettagli da Fabrizio Di Vito. I carabinieri del NOI di Potenza hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza per le vasche di raccolta delle acque di falda e della relativa condotta di scarico a mare dell'impianto ITREC di Rotondella, gestito dalla SOGIN, e dell'adiacente impianto EX Magnox per i reati di inquinamento ambientale, falsità ideologica, smaltimento e traffico illecito di rifiuti. L'indagine riguarda l'inquinamento della falda acquifera provocato da sostanze chimiche pericolose e cancerogene utilizzate per il trattamento delle barre di uranio collocate nel sito nucleare. Secondo l'accusa si sarebbe verificata una grave ed illecita attività di scarico a mare dell'acqua contaminata che non veniva sottoposta ad alcun trattamento. Le acque partendo dal sito ITREC infatti finivano direttamente nel mar Ionio. Il provvedimento è stato disposto in via d'urgenza per evitare il protrarsi di conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente. Il sequestro preventivo non bloccherà però in alcun modo le attività di decommissionamento del sito nucleare. I responsabili dell'impianto dovranno però adottare indispensabili misure di tutela dell'ambiente sotto la diretta vigilanza della Procura di Potenza. E restiamo in qualche modo in tema perché Alcova di Vigiano è prevista a breve, probabilmente lunedì, l'entrata in funzione del secondo depuratore mobile dopo lo sversamento di greggio avvenuto un anno fa quantificato dalla Sessa Eni in circa 400 tonnellate fuoriuscite da uno dei serbatoi. Per la bonifica dei terreni un depuratore arrivato dalla Sardegna è già attivo in territorio di Grumento Nova ed ha trattato finora circa 3.500 metri cubi di liquidi inquinati. Un terzo depuratore è ancora in fase autorizzativa e potrebbe entrare in funzione nei prossimi mesi. Il proprietario di un'azienda zootecnica di Policoro è stato denunciato alla magistratura dai carabinieri dopo che i militari hanno scoperto che i liquami provenienti dai bovini finivano direttamente in un canale di bonifica per poi sfociare nel fiume Agri e infine nel mare. Le analisi dell'ARPAB hanno evidenziato un elevato carico organico inquinante delle acque pubbliche. I controlli hanno permesso di stabilire che parte delle strutture edilizie a servizio dell'allevamento per una superficie complessiva di oltre 10.000 metri quadrati risultavano abusive edificate in un'area sottoposta a vincolo archeologico, paesaggistico, ambientale ed urbanistico edilizio. E voltiamo pagina, ci occupiamo di viabilità e in particolare della strada provinciale 83 chiusa al traffico da più di due settimane. Sono stati resi noti i risultati delle indagini geologiche attivate lungo l'arteria e i dati purtroppo non sono rassicuranti. Sentiamo Michelangelo Russo. La frana avrebbe una profondità di circa 16 metri. È la rappresentazione peggiore, confide il presidente della provincia di Potenza Nicola Valluzzi, che i tecnici stimavano. I piezometri rilevano che la frana cammina di ora in ora, non di giorno in giorno, anche perché è tutta un'area assoggettata a vincolo geologico. La situazione è davvero molto critica. L'esito delle indagini geologiche predisposte all'indomani della chiusura della SP83, arteria situata in territorio di Picerno, all'altezza dell'innesto con la SP94, nelle prossimità dello svincolo del raccordo autostradale, dimostra la gravità del movimento franoso che si è innescato alcune settimane fa e che sta creando non pochi disagi alla viabilità del marmo melandro. L'assessore Castergrande, il presidente della provincia Valluzzi e il sindaco di Picerno Lettieri si sono confrontati per tentare di addivenire a una soluzione più celere possibile. Tra una settimana sarà pronto il progetto esecutivo che vede al lavoro gli ingegneri dell'ente provinciale già da martedì scorso. L'intervento che si sta pianificando necessiterebbe di una somma che si aggirerebbe intorno alle 700 mila euro e consiste nel consolidamento del muro di gravità interessato. A distanza di sette giorni si sarebbe aperta una voragine nella parte sottostante al muro e le lesioni, già evidenti alcuni giorni fa, si sarebbero manifestate in maniera ancora più preoccupante. Prima di entrare nel vivo dell'iter, urge individuare le risorse. Molto probabilmente verranno impiegate quelle a disposizione per le aree interne del marmo platano. Inoltre la regione dovrebbe nei prossimi giorni autorizzare anche la realizzazione di un paio di interventi sulle due stradine comunali di Picerno che necessitano di essere messe in sicurezza per agevolare il deflusso del traffico veicolare, oggi deviato dalla SP83. Ed ora torniamo a parlare della vertenza Troni, presso in regione un tavolo con l'assessore Cifarelli. Facciamo il punto nel servizio di Alessandro Panuccio. Uno spiraglio per la vertenza Troni, anche se la strada resta tortuosa. Dopo le sollecitazioni, l'assessore regionale alle attività produttive, Roberto Cifarelli, ha convocato un tavolo per lunedì 23 aprile alle 10 nella sala Sini del Dipartimento. Al tavolo si confronteranno, oltre alla regione, i rappresentanti di Fisascat, Filcams e Wiltux e dei due centri commerciali lucani, sulla vertenza che interessa i circa 30 lavoratori dei due punti vendita a Marchiotroni di Tito e Melfi, chiusi a seguito della messa in liquidazione della società DPS Group. A renderlo noto la segretaria generale della Fisascat Cisle Basilicata, Aurora Blanca, al momento i complessivi 466 lavoratori sono sospesi e senza retribuzione. La curatela fallimentare, nel corso del recente incontro con i sindacati di categoria al Ministero dello Sviluppo Economico, ha annunciato l'avvio del bando di gara pubblica per la cessione delle attività. Ci sarebbe un'offerta di acquisto parziale che riguarderebbe solo 8 punti vendita, nessuno dei quali in Basilicata. Nei prossimi giorni, spiega una nota della Fisascat Nazionale, verrà avviata la procedura di licenziamento collettivo, anticamera di un possibile accordo sulla mobilità volontaria. Secondo Blanca, il tavolo regionale dovrà servire a mettere in pista un percorso di ricollocazione del personale, parallelo alla naturale procedura fallimentare, con l'obiettivo di riassegnare a nuovi operatori, in tempi brevi, le superfici interessate nei due centri commerciali. E torniamo alla cronaca. Operazione di Polizia Giudiziaria della Questura di Matera Oggi, che ha portato all'arresto dei fratelli materani Nicola e Antonio Stasi. si devono rispondere di concorso in violenza privata e lesioni private aggravate. Nicola è stato trasferito nel carcere di Matera, risponde anche di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di violazione speciale con l'obbligo di soggiorno a Matera, di cui era già destinatario, mentre Antonio Stasi è ai domiciliari. L'episodio che ha determinato l'arresto risale al mese di agosto, quando il padre dei due quarantenni ha provocato un incidente stradale. Al conducente della vettura danneggiata aveva chiesto di risolvere la vicenda con l'impegno di far riparare l'auto danneggiata da un carrozziere di fiducia. Quando il proprietario dell'auto si è recato presso la carrozzeria indicata, Nicola e Antonio Stasi l'hanno aggredito, provocando lesioni con una prognosi di sette giorni. Denunciato l'episodio alla Polizia di Stato, sono scattate le indagini. A seguito di perquisizioni presso l'abitazione dei due, sono stati ritrovati anche panetti di hashish e 7.600 euro, probabile provento dello spaccio. I particolari dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a cui si riferiscono le immagini. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Design e restyling di interni di Vito Coviello Pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine bituminose. Design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza per informazioni 340-63-70-636-vito-coviello-hotmail.it Di Traverso torna con un nuovo progetto che porterà la realtà lucana tutta all'interno degli studi della nuova TV. Una nuova sfida in cui non mancherà l'analisi, l'approfondimento e l'inchiesta giornalistica, con un impatto immediato grazie al confronto con gli ospiti che interverranno. Caffè di Traverso dal martedì al venerdì alle 10.30 e alle 15.30 negli studi della nuova TV. E naturalmente non mancherà il caffè. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg, le accuse sui social da parte di un funzionario della regione Basilicata, Francesca Barra e Claudio Santamaria. La vicenda è finita in tribunale, sentiamo come si è conclusa da Celestino Benedetto. Il GIP del Tribunale di Potenza ha archiviato definitivamente la posizione di Francesca Barra e Claudio Santamaria in relazione alla querela per diffamazione presentata dal funzionario regionale Domenico Leccese. Per ricostruire la vicenda bisogna però necessariamente ripercorrere le puntate precedenti. Si tratta infatti di una storia che nel giro di poche settimane è passata dalle pagine dei social network alle aule di Tribunale. I primi a querelare furono proprio la giornalista Lucana e il famoso attore. I due infatti accusavano Leccese di aver postato su Facebook frasi offensive e illazioni sulla paternità dell'ultimo figlio della conduttrice opinionista televisiva, originaria di Policoro. A quel punto però il funzionario regionale aveva deciso di passare al contrattacco, annunciando a sua volta l'intenzione di querelare entrambi. Il PM aveva chiesto l'archiviazione per Francesca Barra e Claudio Santamaria, decisione contro la quale Leccese ha proposto opposizione. Nelle scorse ore si è svolta l'udienza in Camera di Consiglio, al termine della quale il GIP del Tribunale di Potenza ha confermato l'archiviazione. La querela di Leccese si basava sulle interviste rilasciate dalla coppia televisiva dopo la notizia dell'apertura di un procedimento disciplinare a carico di Domenico Leccese da parte della regione Basilicata per verificare se i posti incriminati erano stati pubblicati durante l'orario di lavoro, procedimento che si era chiuso senza nessun provvedimento disciplinare nei confronti del funzionario. Nell'anno scolastico 2027-2028 la popolazione scolastica in Basilicata subirà una nettissima diminuzione rispetto all'anno scolastico in corso con una perdita di centinaia di classi fra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. I dati sono stati pubblicati oggi dalla Fondazione Agnelli che ieri aveva anticipato i risultati generali di uno studio basato su dati Istat sull'evoluzione demografica. Oggi in Italia la popolazione scolastica è pari a circa 9 milioni di ragazzi. Fra dieci anni, nel 2028, scrive la Fondazione Agnelli, sarà scesa a 8 milioni. Nessun servizio su gomma oggi ha potenza dalle 11 alle 15 a causa di uno sciopero per protestare ancora una volta contro la gestione trotta. Ce ne parla Michelangelo Russo. Ripartono gli scioperi a potenza che si susseguiranno, secondo il calendario nazionale, le regole della Commissione di Garanzia per l'attuazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali per contrastare il degrado lavorativo, organizzativo di gestione ancora vigente nel servizio di trasporto pubblico urbano integrato di potenza. Questo l'annuncio di Fit, Cisle e Wilt, Will di Basilicata. Il degrado che sarebbe stato determinato dall'attuale gestore, la Trotta Bus Service, che da più di due anni ormai con la propria gestione avrebbe reso irriconoscibile il trasporto pubblico urbano della città di potenza, sia nella parte gomma che in quella degli impianti meccanizzati, che di meccanizzato, secondo i sindacati, non hanno più alcunché. L'improvvisazione organizzativa e di gestione da parte della Trotta Bus, proseguono i sindacati, dal suo insediamento, ha determinato uno stato sociale che dimostra tutti i limiti garantiti dalle leggi speciali del settore, dall'applicazione dei CCNL, nonché dagli accordi regionali che il capitolato speciale di appalto aveva richiamato puntualmente e che la società in dispregio a tutto quanto richiamato ha letteralmente cancellato. Lo sciopero contro questo modo di operare è supportato da 18 punti che pongono in evidenza le gravi mancanze che l'azienda sordamente continua a perpetrare nei confronti dei lavoratori. Si va dai ritardi nei pagamenti degli stipendi alle mansioni, alla logistica. Nessun servizio su gomma quindi dalle 10.59 alle 14.59, per le scale mobili e gli ascensori dalle 11.30 alle 15.30 e per gli uffici nelle ultime 4 ore del turno. Chiediamo, concludono i sindacati, all'assessore ai trasporti Castel Grande di cercare una soluzione immediata per i 150 lavoratori di un servizio finanziato con fondi regionali per un valore di circa 3 milioni e mezzo di euro. E nel prossimo servizio parliamo della pericena promossa dal Potenza Calcio per raccogliere fondi a favore dell'Aism. Vediamo. Noi giochiamo a pallone, voi fate cose veramente importanti e vi facciamo un grande applauso. Con queste parole il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, ha ringraziato vertici e volontari dell'Aism di Potenza per la serata che ha rafforzato il sodalizio tra il club calcistico e l'associazione italiana Sclerosi Multipla. La pericena organizzata al Berimbau, nel capoluogo di regione, è stata l'occasione per raccogliere fondi ma anche per far conoscere la realtà associativa che quotidianamente lotta per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla ai tanti tifosi che hanno partecipato all'evento tra foto, autografi ed estrazioni di premi i cui protagonisti sono stati i calciatori letteralmente presi d'assalto dai supporter grandi e piccini dei colori rosso-blu. Se sul campo il Potenza vola verso il sogno della C e fuori dal rettangolo verde che sta ammietendo il suo più grande successo con un radicamento al territorio e la vicinanza alle realtà del capoluogo che operano nel sociale. E siamo allo sport. Ieri giornata di recupero per il Picerno che batte la Turris 3-1 e si riscatta dopo due sconfitte consecutive. Sentiamo Donato Valvano. Dopo due stop di fila il Picerno torna al successo piegando 3-1 la Turris e batte il record di punti della passata stagione arrivando a 49 contro i 47. Prova di forza dei rosso-blu contro un avversario affamato di punti ma domato già nel primo tempo. Problemi di formazione per Arleo costretto a rinunciare agli squalificati francesi e carriere tedesco e agli infortunati in pagliazzo Caponero e Morra. La prima emozione del match all'ottavo. Su angolo di Agresta Cosentino stacca di testa palla di poco a lato. All'undicesimo invece Crucitti servito con un filtrante da Emanuele Esposito cerca il tap-in sottoporta d'inverno ci mette una pezza. Poco più tardi un colpo di testa di Liccardi non crea problemi a Ioime che para senza difficoltà. Al trentesimo i Melandrini passano lancio di Giordano sulla sinistra per Esposito che semina avversari entra in area e trova la stoccata vincente. Ancora il capitano rosso-blu sugli scudi al 43. Cross pennellato dal fondo per Agresta che di testa trova l'angolino ed è 2-0. Nella ripresa la Turris prova a rientrare in partita ma Liccardi da buona posizione non inquadra la porta. Al diciottesimo Corallini ancora vicini al gol. Sull'angolo battuto da Piacente colpo di testa di Guarraccino che termina di un soffio a lato. Gol che arriva al ventiquattresimo. Giancarlo Improta si destreggia in area picernese e serve l'assist per il fratello Umberto che da pochi passi spinge il pallone in fondo al sacco. Le velleità della rimonta della Turris si infrangono quando Caso viene espulso lasciando i suoi compagni in dieci uomini. Il Picerno mette il lucchetto alla sfida in pieno recupero quando Sumo Aoro in contropiede entra in area e appoggia per Romano che non deve far altro che spingere il pallone in fondo al sacco per il 3-1 finale. Ora per il Picerno testa al derby contro il Potenza. E parliamo di ciclismo Lucani protagonisti a Gravina nella terza tappa dell'Iron Bike su un percorso mozzafiato che ha regalato grandi soddisfazioni ai portacolori del team Valnoce e il servizio di Luigi Santopietro. Gravina fa festa due volte con la Mediofondo Bosco difesa grande la prima per il successo di partecipazione e la seconda per la vittoria del Beniamino di casa girò la Mommino Ceci nella classifica assoluta. Il portacolori dello Scott Racing Team categoria Under-23 già vincitore lo scorso anno ha attaccato sin dalle prime rampe mostrando le sue potenzialità anche in assenza del fidato compagno di squadra Paolo Colonna impegnato al nord. E' riuscito a tenerli testa solo Giuseppe Belgiovine che lo ha lasciato fuggire solo agli ultimi metri di gara. Terzo un eccellente Angelo Bonaventura De Gioia. Fuori gioco per una foratura al trentesimo chilometro il leader della generale Nicola Pugliese. Tre Lucani Fausto Santarsiero si conferma l'atleta più in forma. Il corridore lucano già assessore allo sport del comune di Tito ha chiuso la gara di Gravina in settima posizione assoluta vincendo la categoria M3. Pur con una gara in meno Santarsiero entra nella top 7 della classifica generale del circuito. L'organizzatore della tappa 5 dell'Aeronbike quella di Montalbano Ionico Domenico Malvasi ha chiuso in venticinquesima posizione assoluta e quarto di categoria M1. Tra gli M6 emozionante duello tra il pugliese Girolamo Palmitessa e il veterano lucano Francesco Rinaldi conclusasi ad appannaggio del primo solo nelle fasi finali di gara. Risponde bene all'appello anche Tommaso Barbaro terzo tra gli M7 difendendo i colori dello storico GS Beyser. Tra gli agonisti le soddisfazioni giungono tutte dal ciclo team Valnoce. Gli atleti elite colorano il podio di azzurro con Nicola Falabella primo, Domenico Chiarelli secondo e Lucio Invidiato terzo. Bene anche le ragazze con la 19enne Ilenia Matilde Fulcido sul podio della classifica assoluta femminile alle spalle delle pugliesi Ruggero Zeila e Anna Ciccone. Nonostante la discreta prestazione la giovane Lucana sfiora per una manciata di punti l'ingresso nel podio della classifica generale provvisoria dopo tre tappe. Attualmente infatti è quarta ma ha disputato una gara in meno. Alessia Gaudioso completa la rassegna a Valnoce con il secondo posto tra le donne elite. In chiusura c'è l'arte con la mostra Tempo che ci travolge del giovane fotografo Lucano Vincenzo Martinelli il servizio di Rocco Romanelli. Fossono gli oggetti inanimati raccontare la vita di chi li ha posseduti? Vincenzo Martinelli cerca in luoghi in cui la quotidianità si è allontanata di rievocare immagini di vissuti lontani nel tempo e nella memoria. E' così che abitazioni abbandonate ritornano a popolarsi di storie dove la felicità si impernia attorno alla semplicità delle piccole cose. La polvere dell'oblio si alza per rivelare tracce di sentimenti e passioni che non si sono mai addormentate perché negli occhi di un artista proiettano immagini del proprio passato. Non sono testimonianze di tetre desolazioni ma colorate fantasie. Un triciclo sembra voler uscire dalla porta e andare a correre all'aperto. Due balconi dialogano in un immortale reso conto del proprio destino. Un ombrello è il sigillo di antiche passeggiate di due innamorati sotto una romantica pioggia primaverile. Le foto di Vincenzo Martinelli non descrivono una terra dimenticata ma sono un vocabolario di parole a cui ridare voce e nei colori incerti si descrivono tutte le favole che vorrete trovarvi. è possibile visitare la mostra a tempo che ci travolge fino al 30 aprile agli Echi Antichi di Palazzo San Gervasio. Ed è tutto per questa edizione ora alla linea a Gaetano Brindisi per le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione Buongiorno a tutti ben ritrovati sulla Nuova TV continuano queste temperature molto alte per il periodo siamo su valori di fine maggio inizio giugno un'Italia divisa in due nei giorni scorsi ma anche fino a ieri c'erano abbondanti nevicate sulle Alpi sull'Apennino Settentrano anche a quote intorno ai 1000-1500 metri altra neve cade sullo scacchiere occidentale quindi dell'Europa Portogallo Spagna nuovamente questa mattina nevicava in Marocco intorno ai 1300 metri di quota tutte le volte che l'aria fredda scende sul lato occidentale europeo sul nord Africa c'è una risposta lungo i meridiani di aria più calda e quindi in questi giorni abbiamo avuto qualche debole pioggia mista a sabbia la sabbia sempre presente nei nostri cieli forse oggi è l'unica giornata in cui il cielo è un po' più terzo ma sempre presente proprio perché sono tanti giorni tanto che la neve che c'è quest'aria calda tanto che la neve abbondantissima fino a 10-15 giorni fa sta riducendosi drasticamente proprio negli ultimi giorni a causa di queste temperature che oscillano tra i 5-6 fino ai 10 gradi in più della media come vedremo poi nella classica cartina degli spaghetti nel frattempo vediamo l'immagine del satellite che ci mostra come vedete un'Europa divisa in due sul lato orientale c'è aria c'è alta pressione alta pressione con aria anche mite soprattutto sui paesi balcanici un po' più freddo ancora in Russia ma il grosso del maltempo è sul lato sinistro dell'Europa vedete la Spagna praticamente sotto una coltre nube una coltre spessa spessa coltre di nube chiedi scusa c'è aria fredda caratterizzata da quei ciottoli lì sull'Atlantico denota aria molto fredda che come dicevo si va a tuffare fino su Nord Africa sul Marocco e su di noi c'è aria mite soprattutto sulle regioni meridionali invece parte del maltempo interessa anche le regioni alpine infatti vediamo con l'ingrandimento sull'Italia ci mostra questo ingrandimento una praticamente un'Italia centro-medionale senza nubi a parte un po' di nuvolosità sulle murge baresi invece c'è altra nuvolosità sottile sulla Sardegna invece maltempo ancora sulle Alpi vedete il bianco delle Alpi innevate tantissimo in questi giorni in questa settimana abbiamo avuto nevicati abbondanti in molte zone si è superato il metro di altezza anche a quote piuttosto modeste è una nuvolosità così anche di poco spessore tra l'Umbria le Toscane vedete il Lazio settentrionale quindi andiamo a vedere il proseguo della giornata d'oggi per la notte per la sera e per la notte abbiamo poche sorprese con questa situazione avremo cielo praticamente sereno su tutta la nostra regione quella nuvolosità che vediamo sulla murgia potrebbe trasferirsi nel corso della serata anche sulle coste ioniche a parte del nord del Materano ma naturalmente si tratta di nubi piuttosto esigui non avremo sicuramente precipitazioni per quanto riguarda la giornata di domani l'aria fredda che continua ad arrivare sul nord Africa piano piano scaverà una depressione questa depressione si avvicinerà in qualche modo all'Italia ma per domani sarà ancora lontana interesserà soprattutto il mare aperto la Sicilia e la Sardegna andiamo a vedere quindi la previsione sul nostro territorio una previsione ancora all'insegna della scarsa nuvolosità poi con il passare delle ore avremo probabilmente un aumento delle nubi spesso anche nubi velate sottili ciriformi qualche altra nube di spessore più basso diciamo sulla parte meridionale della Basilicata ma domani ancora una giornata con tempo buono caldo nubi presenti sì ma con temperature decisamente superiori alle medie vediamo i valori previsti per domani però valori che sono vedete anche sia le minime le massime sicuramente superiori alle medie soprattutto le massime 7 gradi la minima potenza 9 a Matera massime di 22 gradi a Matera 19 a Potenza sono valori di almeno 5 gradi in più delle medie che si dovrebbero verificare registrare in questo periodo la ventilazione dei bole da nord-est ma pomeriggio sera di domani comincia a rinforzare a provenire da est proprio perché si avvicina la depressione da sud quindi dall'Africa sale verso di noi quindi la circolazione in senso anti-orario di tipo depressionario i mari sono ancora quasi calmi o poco mossi per quanto riguarda domani andiamo a vedere la domenica tra sabato e notte domenica avanza questa depressione ma sarà solamente l'avamposto della perturbazione che poi invece andrà a colpire più direttamente le regioni settentrionali da noi arriverà in mattinata aria ancora mite molto calda infatti tra sabato e domenica la notte tra sabato e domenica vediamo la giornata di domenica soprattutto riferita alle prime ore della giornata di domenica in mattinata avremo delle piogge sparse saranno piogge ancora una volta miste a sabbia avremo molta sabbia che cadrà laddove cadrà la pioggia non per tutto naturalmente cadrà ma laddove cadrà lascerà molta sabbia quindi ancora una volta le nostre auto saranno sporche di sabbia come in questi giorni le piogge saranno molto effimere esigue non avremo precipitazioni significative così come non abbiamo ormai da 15 giorni le piogge sono scomparse diciamo dal nostro territorio e adesso per fortuna c'è stata la neve che si è sciolta altrimenti le diche non avrebbero avuto molti diciamo molti litri di acqua in più rispetto ad ora per quanto riguarda la seconda parte della domenica un miglioramento dovuto a un allontanamento della prima parte della perturbazione dicevo quindi una giornata all'insegna ancora di un bel tempo con temperature in lento calo soprattutto sulla provincia di Potenza vediamo i valori per quanto riguarda la giornata di domenica avremo massime in diminuzione quindi 16 gradi a Potenza intorno ai 20 gradi 21 gradi a Matera per quanto riguarda le minime invece valori miti soprattutto sul Potentino sono previsti in aumento vedete minime di 11 gradi quindi fa caldo come dicevo domani notte invece rimangono stazionare a Matera dove avremo una maggiore forse possibilità di cielo sereno durante la prima mattina quindi qualche grado in meno rispetto a Potenza è una ventilazione che andrà rinforzando da sud-est si dispone da Scirocco arriva più verso di noi la depressione richiama aria da sud-est i mari tendono a essere mossi probabilmente lo Ionio sarà molto mosso lunedì per quanto riguarda domenica ancora una situazione di mare mosso dicevo c'è questo peggioramento in atto infatti andiamo a vedere per quanto riguarda la situazione degli spaghetti prevista per lunedì vedete ci mostra la temperatura in quota sono sempre costantemente al disorbo delle medie già partiamo da un sopramedia di 4-5 gradi il clou proprio tra sabato e domenica rispetto alla linea rossa che rappresenta la media avremo un divario di circa 10 gradi in più delle medie questo divario si avvertirà più nelle zone interne non sulle coste dove il mare è ancora piuttosto fresco e quindi mitica questa ondata di caldo ma vedete in quota i valori sono decisamente al disorbo delle medie eppure per i prossimi giorni nonostante un lento declino verso il basso le temperature per almeno una settimana rimarranno al disorbo delle medie di metà aprile anche il proseguo del mese di aprile sembrerebbe improntato a valori sopramedia qui però c'ho qualche dubbio poi casomai più tardi tra qualche minuto vi dirò anche il motivo invece per quanto riguarda le piogge avremo una situazione di assenza di precipitazioni significative fino a domenica da lunedì invece soprattutto riferita alle zone interne avremo molta pioggia nelle ore pomeridiane si forma una circolazione di aria piuttosto instabile che dovrebbe rimanere per qualche giorno sulla nostra regione vediamo la previsione per lunedì quindi stante queste cartine anche degli spaghetti che ci aiutano lunedì avremo inizialmente cielo sereno poco nuvoloso poi nel corso delle ore più calde tarda mattinata inizio pomeriggio primo pomeriggio comincerà a piovere avremo temporali nelle zone interne sono i classici temporali estivi anche se siamo in primavera ma la formazione è proprio più o meno simile come struttura per quanto riguarda il lato orientale della regione probabilmente non avremo piogge o qualche pioggia in tardo pomeriggio inizio sere quando il tutto andrà di nuovo migliorando per quanto riguarda i prossimi giorni si scava la settimana prossima una depressione in quota la cosiddetta goccia fredda che possiamo vedere anche con l'aiuto delle cartine dei siti meteorologici mondiali vedete la cartina riferita a lunedì mattina il grosso del maltempo rimane sull'Atlantico sull'Europa centrale anche qui i geopotenziali sono piuttosto bassi per lunedì questo e una goccia fredda si forma proprio sull'Italia vedete tranne la Puglia per il resto gran parte dell'Italia è sotto questa goccia fredda quindi ecco il motivo della presenza dei temporali però anche nei prossimi giorni la settimana dovrebbe proseguire su questo andamento prende possesso una forte area di alta pressione che si denota dal colore rosso sull'Europa centrale è un'alta pressione molto forte a tutte le quote che prenderà sia il centro sia il nord dell'Europa sul lato orientale invece vedete dalla Russia scende un pochino di aria fredda sempre in quota naturalmente ecco il motivo per cui ci dovrebbe essere molta instabilità nei prossimi giorni quindi da lunedì fino a venerdì probabilmente compreso temporali sempre possibili nel pomeriggio poi dicevo gli spaghetti non fanno vedere a lungo termine un afflusso di aria fredda qualche dubbio in quanto nella terza decada di aprile potrebbe alcuni modelli iniziano a intravedere una possibile andata di aria fredda che potrebbe lambire quanto meno il nostro paese questo dicevo nella terza decada di aprile avremo modo di riparlarne sicuramente venerdì prossimo per il momento vi auguro un buon weekend e arrivederci sulanoma tibu Grazie a tutti.